buongiorno a tutti allora presto che tardi come diceva quello la perché devo farvi le schedine e bollettine del gigione ma è tardissimo perché anche ieri sera sono tornato non darvi improponibile ero a pezzi e quindi ho detto vabbè farò domani e purtroppo la sveglia ha suonato tardi e quindi siamo in ritardissimo quindi la prima partita del campionato inglese perché partiremo col campionato inglese visto che si gioca alle 13 30 e quindi quando uscirà questo video la partita sarà già in corso perché uscirà intorno alle 14 15 siamo già intorno alla mezz'ora farete tardi per il primo comunque partiamo perché si parte subito con bournemouth tottenham e qui direi che l'x2 è d'obbligo poi alle 16 c'è Arsenal Fulham 1 Brentford Crystal Palace 1x Everton Wolverhampton qua facciamo la giocata alla gigione l'1-2 Everton Wolverhampton 1-2 Manchester United Nottingham Forest 1 Brighton West Ham 1 andiamo alle partite del giorno dopo alle 15 si parte con due incontri Barley Aston Villa x2 Sheffield United Manchester City 2 secco infine la partita diciamo di fine giornata chiamiamola così anche se è una giornata divisa in due giorni però la terza giornata di campione del campo se non erano la terza dovrebbe essere la terza Newcastle United Liverpool e vedere il Newcastle favorito sul Liverpool è una cosa che mi lascia abbastanza colpito ma l'alton della squadra degli Ishi Sheik anche loro lì se non sbaglio ha fatto una bella squadetta il West Ham sta comprando di tutto e di più anche lui ha vinto la conference stanno facendo campagna acquisti faraonica ha preso anche Beto 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 comunque Newcastle United Liverpool ragazzi miei a mio rischio e pericolo mi metto un X fisso perché questa è una partita da tripla il Newcastle è leggermente favorito rispetto al Liverpool però il Liverpool è sempre il Liverpool quindi mi arrischio l'X fisso poi magari finisce 3-1 per il Newcastle mi direte ecco hai visto Gigi dovevi più avere fiducia vabbè è un rischio come dico sempre ho la pelata non ho la palla magica avessi la palla magica sarei straricco invece ho solo la pelata e si fa quel che si può detto questo questa è la schedina number one vediamo se gioca hub dovrebbe mancare come al solito ah no hanno giocato ieri sera il Luton Town che è senza il campo devono rinviare le partite casalinghe perché stanno ricostruendo un po' lo stadio per renderlo adatto alla Premier che poi magari stanno lì a impazzire a rifare lo stadio Luton riscende non me ne vogliano i tifosi del Luton ma è possibilissimo ritorno in Serie B e ha speso i soldi vabbè serve sempre uno stadio bello però comunque ieri sera 5 pere le prese dal Chelsea eh vabbè sono cose della vita andiamo alla schedina alternativa e partiamo con Bournemouth Tottenham partita che ve l'ho detto quando vedrete questo video sarà in corso primo tempo non penso che sarei molto il primo tempo e qui voglio andare di gol più over Bournemouth Tottenham gol più over dato a aspettate come al solito mi mettono l'over 3.5 e paga poco paga poco vi dovete accontentare 1.59 gol più over 2.5 data 1.59 proseguiamo con Arsenal Fulham Arsenal Fulham e qui ragazzi miei mi arrischio il gol è difficile perché non so se il Fulham riuscirà a segnare in casa dell'Arsenal ma mi arrischio il gol data 1.95 Brentford Crystal Palace qui vallo di gol a 1.85 bello secco, bello tranquillo Everton Wolverhampton over 2.5 data 1.87 Manchester United Nottingham Forest qua voglio arrischiare over 3.5 qua proprio voglio voglio rischiare il top del top del top con un bel over 3.5 data a 2.35 se lo prendiamo è libidine Brighton West Ham Brighton West Ham qua vado di gol più over perché mi acchiappa mi acchiappa veramente il gol più over come direbbe qualcuno e quindi Brighton non è finito ho smagliato ho smagliato track gol più over data a 2.20 no perché come al solito mi devo mettere il 3.5 è pagato poco Brighton West Ham gol più over data a 1.64 che uno poi magari mi dice Gigi ma 1.64 una quota vanno interessante guarda che no vedete mi sembrano tutte quote discretamente scontate ecco per intenderci ogni tanto mi piace anche fare il rischione a 2.35 2.20 2.15 certo qualcuno a quel punto mi potrebbe dire no ma allora devi rischiare per dire la vittoria del Bornemoff sul Tottenham ecco quelli sono tentativi da suicidio vogliamo fare i tentativi possiamo giocarci a 10 euro sullo scudetto al frosinone pagato 10 milioni magari magari 10 milioni 10.000 euro giochi 10 euro ne prendi mille volte la posta scudetto al frosinone secondo voi il frosinone vince lo scudetto uguale al Bornemoff col Tottenham e infatti non è pagato neanche tanto è 3.35 quindi non è però sinceramente il Bornemoff che batte il Tottenham poi ripeto lo saprete subito perché questo video uscirà che la partita sta intorno alla mezz'ora del primo tempo magari il Bornemoff sta già vincendo 2 a 0 sul Tottenham non è ancora iniziata mentre sto facendo questo video proseguiamo con le partite di domani Barley-Aston Villa Barley-Aston Villa è una partita che boh Barley-Aston Villa è un bel over 2.5 a 1.80 mi fa libidine Sheffield United Manchester City qua mi arrischio qua mi arrischio un bel over 3.5 a mio rischione pericolone vado di over 3.5 dato a 2.30 e infine Newcastle United Liverpool qua il gol più over è d'obbligo però aspettate un attimo che controllo una cosa sì il gol più over è d'obbligo perché questa è una partita che potrebbe finire tranquillamente 2 a 2 poi dopo finisce con uno squallido 0 a 0 e mi direte Gigi hai visto un patto 0 a 0 che schifo comunque il gol più over di Newcastle United Liverpool è dato a 1.56 quindi vedete quota relativamente bassa se uno vuol rischiare perché come me si sente che può uscire un 2 a 2 da libidine ci sarebbe il gol più over 3.5 che però ripeto è un po' rischiosetto che viene 2.10 quindi vedete voi come gestirvelo detto questo ragazzoli vi ho dato le mie dritte sul campionato inglese leggermente in ritardo chiedo Venia ma faccio quello che riesco perché finendo tardi con il lavoro ecc poi dopo mi viene l'abbio con faccio il video non è il massimo preferisco farli con calma al mattino farla mattinata la prima partita è Bornemof Tottenham sarà quel che sarà adesso vi faccio subito il campionato tedesco che inizia alle 15.30 così il video esce per tempo prima che iniziano le partite e quindi uno se vuole può fare qualche giocatina detto questo ci vediamo alla prossima ciao Ciao